ragazze benvenute al nuovo video di spacchettamento della campagna 10 cominciamo fattura con il bollettino l'anteprima di campagna 13 con novità bellissime e vi farò il video i cataloghi di outlet esclusivo di campagna 11 poi abbiamo 5 cataloghi di campagna 11 poi mi hanno inviato 5 cataloghi di campagna 12 perché sono passata da oro, sono passata a platino poi abbiamo 10 cataloghi, questi li ho ordinati io di campagna 12 abbiamo il nuovo colorario le offerte esclusive per noi che ho letto che dalla prossima campagna le offerte per noi presentatrici e le anteprime sono nello stesso fascicolo poi il catalogo di campagna 13 dove vediamo subito le due nuove creme della Enew eccoci qui poi cominciamo con i prodotti il borotalco fairway da 40 grammi e 24 mesi dall'apertura poi abbiamo un bubble butt da un litro mandarino e? gesso mino bravissime un pennello per il viso per cipria fondotinta in polvere e anche blu e anche blu bravissime, grazie bacinella gonfiabile per fare i pedi l'uvi o cose del genere nello spacchettamento di campagna 9 l'abbiamo mostrato anche gonfiato ci sono due taglieri questi qui li abbiamo ordinati per noi quindi adesso ok ci sono una mela e una fragola in plastica vanno in lastoviglie tutto quello che va in lastoviglie è praticamente utile per noi donne è stupendo poi abbiamo un shampoo e un balsamo della linea quella che contiene seta eccoci qua eccoci qua il balsamo è da 400 ml no scusate lo shampoo è da 400 ml mentre il balsamo è da 250 ml scadenza sempre 12 mesi dall'apertura e l'avance technique sempre avance technique shampoo e balsamo balsamo della linea Repar 7 in 1 shampoo da 400 ml e il balsamo da 250 ml sempre 12 mesi dall'apertura continuiamo con allora dato che l'altra volta mi sono trovata bene con i reggiseni V1 intanto che erano ancora in offerta ne ho non vanno a prendere altri 4 e una mia cliente mi ha ordinato il Body Illusion Secret tipo tutina insomma che fa da reggiseno e eccoci qui colorazione nera quella poi The Laval Naturas Body Care il famosissimo bellissimo stupendo profumatissimo sfogliante al cioccolato buonissimo questo per me è spettacolare quanti ml sono? grazie io mi sono dimenticata 200 200 ml poi della Senses adesso li sto prendendo tutti si mi sembra che ci siano tutti allora mi hanno ordinato due sono doccia schiuma e shampoo anche uomo perchè la linea uomo ha il tappino nero ha X trim ecco qui due in uno da 250 ml poi sempre della stessa linea una Maxon jungle ecco brava sempre sempre 250 ml due 2 Senses forever 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 vediamo che ok e un altro Amazon jungle però nel formato da 500 ml della linea skinso soft mi hanno ordinato due olio spray secco a jojoba quello con olio di jojoba da 150 ml ok mi hanno ordinato sempre della linea advanced tecnica mi hanno ordinato un bassamo riparatore della linea 7 in 1 e sono quanti ml forse dietro c'è scritto qua c'è la durata qua 150 ml spero si veda sempre advanced tecnica una maschera ristrutturante all'olio di argan poi c'era l'offerta che chi prendeva un prodotto da pagina 2 a pagina 15 insomma una roba del genere cioè si poteva prendere gli smalti a 1,95 euro allora i miei clienti non ne hanno approfittato io ne ho approfittato dopo ve li facciamo vedere allora ci sono due cipre compatte della linea ideal floor adesso vi facciamo vedere perché una è al fair 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 questa qui fair e quella che adesso vi fa vedere la mia è in light medium eccolo qui c'è anche la pellicolina sì c'è anche la pellicolina allora c'è la sua spugnetta e questa è la colorazione light medium sono 10 grammi di prodotto eccoci qua con scadenza due anni per guardare fagli vedere ecco ecco qui 24 mesi dall'apertura eccoci qua quello era il fair no light medium scusate continuo a sbagliarmi perdonate light medium e questo qui è il fair eccoci qua eccoci qua eccoci qua sempre con la sua pugnetta 10 grammi di prodotto cadenza due anni si c'è tutto ok poi gli smalti si sempre della linea ideal flow flowers c'è il fondotinta in crema nella colorazione shell eccoci qua scusatemi ce la fai? attenzione a non romperlo perché da sotto ce l'ho fatto da sotto ce l'ho fatto guardate qui eccoci qua con la sua pompettina per erogare il prodotto 30 ml di vetro questa mi raccomando state attenti quando e adesso vi mostriamo i due smalti con l'effetto metallico che sono usciti che erano una novità della campagna 10 questo qui è l'artic shell perfetto guardate che bello 10 ml di prodotto qui mentre l'altro è il platinum petal eccoci qua stupendo gris sono bellissime c'è niente da dire dell'avance tecnica mi hanno ordinato uno spray effetto liscio sono 100 ml di prodotto la durata non lo so però 12 mesi 12 mesi bravissima un levaco comidoni comidoni una pinzettina eccola perfetto poi della color trend il lip blast eccolo lì nella colorazione vivid violet ecco qua non vi posso fare lo swatch perchè non è mio ma comunque presto caricherò un video dove farò vedere gli swatch sia del lip gloss blast giusto e anche del rossetto lasting smile sempre della color trend eccolo qui la colorazione è lolita ma questo qui purtroppo non ve la posso vedere comunque la colorazione la vedrete nel video che caricherò più avanti l'infinite no aspetta infinite mascara che è solo nella colorazione black così una lozione allora la lozione idratante per i piedi alla ciliegia dell'avono food work sempre food worker abbiamo il deodorante spray al lime 100 ml di prodotto food worker ancora esfoliante per i piedi ai sali ai sali marini in abbinato alla lozione sempre ai sali marini tutte e due confezioni da 75 ml per una durata di 12 mesi 12 mesi dall'apertura questi li ho presi per noi perché li voglio provare dopo vi sapremo dire come sono della mitica che io non mi stuferò mai di dire che è una linea che per me è eccezionale cioè la planet spa la crema mani piedi al burro di cacao è spettacolare pur hanno ordinato c'era l'offerta del set della avon musk allora deodorante spray da 50 ml giusto? 705 ah 75 ml scusatemi il talco 40 grammi si eccolo qui eccolo qui senza fare danni provo a fare e di questi set me ne hanno ordinati due quindi questo è il secondo set che era in offerta 9,95 e quello è il packaging è il packaging dell'ode toilet se non sbaglio aspettate che leggo sono 50 ml è un ode toilet ok con vaporizzatore 50 ml e quello lì è il packaging bellissimo mi hanno ordinato da uomo il lode toilet in individual blu casual si sono quanti provo a guardare per piacere? 100 ml di prodotto attenzione esatto perché non è nostro ma vorremmo fare vederla guardate che bella la confezione stupenda guardate che bella 100 ml di prodotto e questo è un profumo da uomo era il profumo da uomo poi un'altra cliente mi ha ordinato il set che era compreso due profumi della today che sono questi da 50 ml che però non posso aprirli perché sono incartati e compresi nel set c'era anche il together giusto? si dice così? 50 ml 50 ml e penso 50 ml anche questo qua 30 ml 30 ml c'è zaccarsi oggi non è giornata allora i today sono da 50 ml il together è da 30 ed è il set a 39 euro e 95 ok spero che il video vi possa essere stato d'aiuto noi vi mandiamo un grosso bacio ciao alla prossima ciao ciao ciao